Tra Italia e Inghilterra ci sono delle differenze tra campionato italiano e campionato inglese, si è tolto grandi soddisfazioni sia in Italia e sia in Inghilterra. Hi, good afternoon, buonasera a tutti, però lo facciamo comunque, abbiamo giocato tutti in Italia, però lo facciamo in inglese così sarà un po' più chiaro, come dire, non voglio sbagliare niente. Prima di inizia, voglio ringraziare il signor Antonio perché per me è un grande honno di essere qui oggi, di essere riconosciato come parte di questo gruppo, come parte dei legionari giocatori, perché quando ero in Africa, in Senegal, mio sogno era di giocare il fútbol, e quando guardavo la mia carriera, ho avuto più di quello che avevo pensato. Quindi, essere qui, con queste legionari giocatori, mi rende molto orgoglioso e molto felice con quello che ho avuto nella mia carriera, quindi grazie per avermi parte di questa famiglia GOLDEN FOOD. Ho avuto una fantastica esperienza, ho giocato in Italia, ho giocato in Inghilterra, e questo è quello che mi piace molto per il gioco, perché il fútbol fa un'indicazione. Quando ero in Italia, ho appena di capire la lingua, la cultura del paese, e questo mi ha fatto crescere e questo mi ha diventato un personale che oggi sono. Quindi, in Italia, ovviamente, il gioco è diverso da l'Inghilterra, ma Italia è un paese molto speciale per me, perché ho arrivato a Milano quando ero 20 anni, e questo è quello che ho appena 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 il lavoro. Questo è quello che ho appena appena di essere un professionista, l'educazione che hai per fare per essere un gioco professionale. E' questo è quello che ho appena appena che non voglio giocare il fútbol per un anno, voglio giocare il fútbol per i prossimi 15-20 anni. E l'educazione che ho ricevuto in Milano è veramente aiutato a creare la mia carriera. Patrick, one minute only to translate molto velocemente il suo ringraziamento.